E sono diverse le iniziative che la diocesi di Termo Lilarino, guidata dal vescovo Gianfranco De Luca, dedicato ai giovani. Non manca l'arte e la cultura, tanto che si è costituita un'associazione intitolata Pietra Angolare. Noi incontriamo la presidente Gilda Falcone, un'associazione che ha curato questa mostra e altre attività. L'associazione Pietra Angolare nasce nel novembre 2015 dal desiderio di otto giovani molisani di spendere le proprie competenze all'interno di questo territorio ricchissimo di bellezze e di risorse. Nasce anche grazie al sogno del nostro vescovo di rendere questa una terra per giovani. L'obiettivo è stato duplice, quello di formare e appassionare i nostri giovani al territorio, al patrimonio diocesano e non solo, da un lato e dall'altro rendere fruibile e accessibile a tutti i siti più importanti della nostra diocesi. Tra le iniziative c'è anche il progetto Chiese Aperte. Il progetto Chiese Aperte è nato proprio dal desiderio di migliorare la visita e l'offerta anche in termini di beni culturali che abbiamo a disposizione. L'abbiamo fatto questo selezionando 30 giovani di questa regione, tutti laureati in beni culturali, scienze turistiche e lingue straniere, che si sono formati sul patrimonio diocesano e offriranno gratuitamente un servizio di accoglienza turistica durante tutto il periodo estivo. Tra le iniziative questa probabilmente è stata una delle più apprezzate dai turisti che anche dopo tanti anni hanno trovato chiese, cattedrali, mostre, musei aperti, migliorando anche la visita che abitualmente facevano. Si punta anche ad offrire opportunità di lavoro e di inserimento occupazionale? Sì, il nostro sogno è quello di rendere tutto questo anche sostenibile economicamente. Per fare questo però abbiamo sicuramente bisogno di una rete di istituzioni con l'università, con tutti gli enti che in qualche modo possono offrirci un'opportunità e possono far sì che rimanere in questa terra, in questo territorio, sia una sfida importante e da cogliere soprattutto. Ora ci troviamo nella cappella privata del Vescovo. Qui avete allestito, proprio vediamo il quadro, la pala d'altare dell'Annunciazione di Montorio, una sala multisensoriale. Ma in cosa consiste e da cosa è composta? Sì, dopo aver visitato chiese a noi anche sconosciute e aver apprezzato alcune delle opere presenti, abbiamo immaginato di riprodurre qui una piccola sala Expo. Infatti abbiamo scelto la tela di Montorio che è stata individuata da Sgarbi proprio per l'Expo di Milano e abbiamo anche scelto alcuni elementi caratteristici della chiesa di Montorio Nefrentani, come la Ciarangella, che è una campana molto particolare, letteralmente tradotta, significa proprio Voce degli Angeli. E questa sala è stata pensata anche per far sì che questa mostra sia fruibile anche a chi magari non ha la possibilità di visitare, come tutti gli altri, una mostra a 360 gradi. Quindi attraverso i sensi che sono l'udito, l'olfatto, la vista, è possibile offrire questa visita anche a loro. E inoltre vorrei ringraziare l'architetto Ivano Ludovico, il professore Michele Carafa e Sara Pellegrino che hanno allestito questa mostra, l'hanno ideata, l'hanno pensata e hanno reso possibile per nove anni consecutivamente la realizzazione di questa mostra che è un'iniziativa che nel tempo è stata veramente tanto apprezzata e verrà migliorata continuamente. Tra le operatrici che hanno seguito questo corso di formazione organizzato dall'Associazione Pietra Angolare c'è Teresa. Come è andata? Allora è andata bene, benissimo. Questa esperienza mi sta piacendo molto. È un'occasione di crescita per tutti noi partecipanti che comunque abbiamo fatto degli studi nel mondo dell'arte e abbiamo modo di metterli in pratica nel nostro territorio. Ciao a tutti, io sono Yasmin Tarricone, frequento la terza del liceo artistico Benito Iacovetti di Termoli e sono felice perché anche noi siamo stati invitati alla mostra che è tenuta qui in diocesi nella cura Vescoviglia della cattedrale di Termoli e questa mostra ha come tema gli angeli e noi siamo molto contenti di questo tema e di essere stati invitati perché abbiamo l'opportunità di far vedere tante opere che variano da sculture, dipinti e fotografie e sono state tutte fatte dai ragazzi del corso di arti figurative di Termoli le terze, le quarte e le quinte. Nel calice che vediamo alla nostra destra gli angeli sono raffigurati in un modo particolare solo la testa antropomorfa posizionata su due ali di uccello in questo modo si cerca di dare all'angelo la dimensione dell'uccello del paradiso e quindi con il calice che il Signore racconta nei Vangeli che verrà nuovo soltanto nel Regno dei Cieli noi nel mistero dell'Eucarestia già entriamo in questa dimensione della vita eterna del paradiso mentre nello stensorio che serve nel culto cattolico per l'adorazione eucaristica gli angeli hanno due ruoli particolari reggere il mondo in questo stensorio e reggere l'amore di Dio che raggiunge l'umano al centro tra queste due opere di cesello argente o interessante tra queste due opere l'assunta di Michele Greco da Valona siamo nel 1500 un'opera che si trova a Guglionesi un'opera devozionale vediamo intanto la fede raccontata la tomba vuota con Maria assunta in cielo e Tommaso che riceve la cintura della Vergine Maria assunta in cielo è raffigurata in un modo particolare secondo la visione di Ezechiele che vede Dio seduto su un trono di pietre preziose circondate da figure antropomorfe e alate che si muovono in armonia camminando in avanti e anche in laterale ma anche i salmi che raccontano delle ascensioni sono presenti in questa opera gli angeli monocromatici che sono ai lati della Vergine hanno strumenti musicali perché Dio ascende al suono di tromba perché Dio va lodato sui cembali e sui flauti e così via altri due angeli incoronano la Vergine e una schiera innumerevole di angeli fa corona al padre e al figlio il cui volto ci racconta il padre in questa immagine a tutto tondo in cartapesta policroma vediamo il racconto vetero testamentario dell'arcangelo Raffaele che si mette in cammino a fianco a Tobbiolo generalmente lo chiamiamo così per distinguerlo da suo padre che pure Tobia si chiamava e lo accompagna nel cammino alla ricerca di una donna con la quale iniziare una storia d'amore che sia secondo il cuore di Cristo secondo il cuore di Dio scusate tutto il creato partecipa alla guarigione del cuore di Tobia e di Sara perché questo amore possa essere puro e così abbiamo capretti, pesci come in questo caso e altri animali che servono come gestualità cosmica per arrivare a questa terapia del cuore e finalmente poter dire quanto l'amore sponsale l'amore tra uomo e donna ha a che fare col mistero di Dio